Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un amplificatore mono, che è la IMA A3001. Nel video della settimana scorsa, in cui potete andare direttamente cliccando i banner in alto a destra, abbiamo analizzato il funzionamento di questo amplificatore quando viene utilizzato come amplificatore per subwoofer. Oggi invece andremo a vedere che con l'utilizzo di due di questi amplificatori, possiamo andare ad effettuare una bi-amplificazione. Molti di voi sapranno già cos'è la bi-amplificazione, ma ora andiamo a fare un ripasso e vediamo anche i vari tipi di bi-amplificazioni che si possono effettuare. Partiamo subito col dire che solitamente in un impianto audio-plastico abbiamo un unico amplificatore stereo, quindi che sa gestire due canali, il canale destro e il canale sinistro, e poi abbiamo due diffusori. Quindi il segnale audio viene amplificato dall'amplificatore stereo e poi va separatamente ai due diffusori. Una volta arrivato ai diffusori, viene poi diviso dal filtro crossover dei diffusori stessi tra i vari altoparlanti che possiede il diffusore. Al tweet arriveranno solo le frequenze alte, al woofer solo le frequenze basse e al mid-rage se c'è le frequenze medie. Ora andiamo a vedere il primo tipo di bi-amplificazione, che è la bi-amplificazione orizzontale. In questo caso viene utilizzato un amplificatore mono per ogni diffusore, quindi un amplificatore mono per il diffusore destro e un amplificatore mono per il diffusore sinistro. Ovviamente, specialmente in questa configurazione, ma anche nelle altre, i due amplificatori devono essere completamente identici. Ma quali tipi di vantaggi ci porta questa configurazione rispetto al solo amplificatore stereo? Il primo è quello di avere una separazione completa del segnale fra i due canali. Un amplificatore stereo, infatti, per quanto buono sia, presenta sempre una piccola influenza fra i due canali. Quindi una piccola parte del segnale del canale destro finisce nel canale sinistro e viceversa. Stiamo parlando ovviamente di una parte piccola, molto piccola. Ma quando andiamo ad utilizzare due amplificatori completamente separati, il fenomeno si riduce quasi a zero. L'altro vantaggio che abbiamo, specialmente su questi amplificatori in classe D, che hanno l'alimentatore separato, quindi come queste AIMA 3001, è quello di avere più potenza disponibile. Il 90% delle volte, infatti, in questi amplificatori, il collo di bottiglia per quanto riguarda la potenza è sempre l'alimentatore. Prendiamo, per esempio, una IMA A07, che è un amplificatore stereo, che viene fornito con lo stesso identico alimentatore che è fornito anche per gli A3001. Ora, questo amplificatore eroga all'incirca 140 Watt per canale e ha due canali su 4 Ohm, e l'amplificatore ha una potenza massima di 216 Watt. È facile intuire che alla massima potenza questo amplificatore potrebbe erogare solo circa 100 Watt per canale, e non 140, perché l'alimentatore arriva a 200 Watt, al suo limite massimo. Quando invece andiamo ad utilizzare gli A3001, che tra l'altro utilizzano lo stesso chip dell'A07, ogni amplificatore, quindi ogni canale, ha il suo alimentatore. Quindi in questo caso abbiamo 216 Watt di potenza massima per ogni canale. Quindi diciamo che questi sono i due principali vantaggi di andare a effettuare una biamplificazione orizzontale. Esistono poi altri tipi di biamplificazione, come la biamplificazione verticale, verticale, che può essere sia attiva che passiva. Sono però biamplificazioni che vanno effettuate con amplificatori stereo ed esulano un po' dal contenuto di questo video. Se siete interessati però ad analizzare anche questi altri tipi di biamplificazione, scrivetelo nei commenti e farò un video dedicato anche a questo tipo di biamplificazione. Quindi ora che abbiamo capito bene cos'è la biamplificazione, possiamo procedere con l'unboxing di questi amplificatori. Nel video vedrete solo l'unboxing di uno dei due, perché mi sembrava abbastanza inutile andare a aprire anche l'altro, visto che sono sostanzialmente identici. Una volta aperta la scatola, che presenta anche il nome dell'azienda, troviamo la solita garanzia in cinese, poi il manuale di istruzioni, che è scritto in inglese e cinese, poi troviamo il solito adesivo a IMA, poi un cavo di alimentazione, e poi l'alimentatore, che è molto grande, da 36V 6A, quindi una potenza totale di 216W. Poi in una busta di plastica troviamo l'amplificatore vero e proprio, che è molto compatto e molto ben realizzato. Infatti la finitura è molto bella. Andiamo a vedere i pannelli frontali dei due amplificatori. Abbiamo per entrambi il tasto di accensione, poi il selettore tra funzionamento in PBTL e funzionamento invece in modalità sub. Per il nostro utilizzo andremo a lasciare sempre selezionato PBTL. La sigla PBTL sta ad indicare che i due canali dell'amplificatore funzionano in parallelo. E ora vi chiederete, ma perché due canali, visto che è un amplificatore mono? Perché questo amplificatore utilizza il chip TPA3255, che è lo stesso della IMA07, che è un amplificatore molto famoso, ed è un chip in classe D che è stereo. Questi due canali del chip possono essere utilizzati però in parallelo, creando un unico canale mono. Questo permette all'amplificatore di pilotare tranquillamente carichi molto più bassi. Riusciamo infatti anche a pilotare carichi da 2 ohm con questo amplificatore. Poi abbiamo il potenziometro che regola la frequenza di taglio del subwoofer, che in questo caso non ci serve a niente. Possiamo lasciarla nella posizione che vogliamo, tanto il selettore PBTL va a escluderla. E infine poi abbiamo i due potenziometri del volume. Io vi consiglio però di non utilizzarli e lasciarli entrambi al massimo livello. ed andare a regolare il volume tramite il preamplificatore che metteremo a monte, o se abbiamo solo una sorgente, la regolazione del volume della sorgente stessa. Questo perché se andiamo a utilizzare il volume di questi amplificatori, dobbiamo essere in grado di metterli posizionali perfettamente nello stesso identico modo, altrimenti avremo uno sbilanciamento tra il canale destro e il canale sinistro. Ora possiamo passare a vedere i pannelli posteriori. Abbiamo una coppia di ingressi, destro e sinistro. Vi potrà risultare strano, visto che è un amplificatore mono, ma sono sostanzialmente due ingressi che vengono poi sommati dall'amplificatore. Ce ne sono due perché quando viene utilizzato come amplificatore per subwoofer potrebbe essere comodo avere due ingressi che vengono sommati. Nel nostro caso invece ci serve solo un ingresso e possiamo usare indistintamente l'ingresso R o L perché tanto non cambia assolutamente nulla. Poi abbiamo un'uscita su per ogni amplificatore, i connettori per i diffusori e infine l'ingresso per l'alimentatore, da 24V a 48V. Andiamo a vedere quelle caratteristiche tecniche di questi amplificatori. Ci dice che il chip di amplificazione in classe D che viene utilizzato è il TPA3255D2 della Texas Instruments che è un chip molto famoso per il suo rapporto qualità-prezzo e soprattutto in termini di potenza, pulizia del suono e di bassa distorsione. Il TPA3255 è un chip stereo e in questo amplificatore che è mono viene utilizzato in modalità PBTL. Sostanzialmente i due canali vengono messi in parallelo. Questo permette all'amplificatore di reggere carichi molto più bassi. Quindi diciamo che con un TPA3255 configurato in PBTL si riesce tranquillamente a pilotare anche un diffusore da 2 ohm. Poi ci viene indicato che vengono utilizzati degli op-amp in particolare degli NE5532. Poi DC chip 2596 sinceramente non so a cosa si riferisca. Poi abbiamo la risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz, più o meno 3 dB. Andremo a verificare poi anche questo dato nelle misure. Poi l'impedenza altoparlante che si riferisce all'impedenza degli altoparlanti che possiamo collegarci, che va dai 2 ohm agli 8 ohm. Poi la distorsione che è dello 0,03% quando si emette un Watt. Poi viene indicata la tensione a cui può essere utilizzato che è da 24 V a 48 V. Ovviamente più il voltaggio è alto più sarà alta la potenza che l'amplificatore riesce a derogare. Ovviamente l'alimentatore deve avere anche degli ampere adeguati. Poi viene indicato il rapporto segnale rumore che è a maggiore di 106 dB. Molto buono. La sensibilità di ingresso che è di 0,77 V. Ciò sta a indicare che con 0,77 V di segnale in ingresso al massimo volume abbiamo la massima potenza dell'amplificatore. Poi le dimensioni che sono di 12 cm per circa 12 cm per 3,6 cm di altezza. Poi i tagli del filtro crossover che vanno da 40 Hz a 300 Hz. E viene indicata anche la pendenza del filtro che è di 12 dB per ottava. E infine viene indicato l'alimentatore che è da 36 V sempre. Ora andiamo a smontare uno di questi amplificatori per vedere come è fatto l'interno. Basta rimuovere le viti del frontale e anche le viti del pannello posteriore. In questo modo si riesce ad alzare il coperchio e possiamo vedere all'interno. Da questa foto riusciamo a vedere meglio l'interno dell'amplificatore. Il circuito si presenta ben realizzato e anche ben ingegnerizzato dal mio punto di vista. Per prima cosa possiamo notare il grande dissipatore che occupa gran parte del circuito. Sotto di esso è presente il chip TPA3255 di amplificazione e appunto il dissipatore ha il compito di dissipare il calore che questo amplificatore produce. Poi troviamo cerchiate in rosso le due induttanze di filtro che sembrano di ottima qualità e anche predisposte a sopportare una gran potenza. Unica piccola nota, l'induttanza in basso non è perfettamente centrata sulla posizione del circuito. Però è una cosa che è totalmente ininfluente ai fini del funzionamento dell'amplificatore, più una roba estetica. Poi troviamo due coppie di condensatori elettrolitici che sono posti sul ramo di alimentazione e fungono da riserva di energia per l'amplificatore. Infine poi nella parte posteriore troviamo anche i due condensatori di filtro. Passiamo ora alla parte di misurazioni e come abbiamo fatto nel video precedente andiamo a vedere la differenza di risposta su un carico da 2 Ohm, 4 Ohm e 8 Ohm. In particolare in questo grafico vediamo la curva in azzurro che è la risposta su 2 Ohm, la curva in blu che è la risposta su 4 Ohm e la curva in viola che è la risposta su 8 Ohm. Per quanto riguarda le medie e basse frequenze le risposte sono solo scalate di qualche decimo di decibel, in particolare circa 0,2 dB tra 8 Ohm e 4 Ohm e circa mezzo dB tra 4 Ohm e 2 Ohm. Se ci spostiamo invece sulle altre frequenze troviamo la solita dipendenza della risposta dal carico che è dovuta al filtro di uscita del classe D. In particolare a 20 KHz abbiamo la risposta su 8 Ohm che ha circa un aumento di 1 dB, la risposta su 4 Ohm che perde circa 1 dB e 3 e la risposta su 2 Ohm che perde circa 5 dB. Mentre la risposta su 4 Ohm e 8 Ohm è molto buona, la risposta su 2 Ohm è abbastanza scarsa visto che siamo sotto di 5 dB a 20 KHz. Possiamo facilmente intuire quindi che il filtro di uscita del classe D è stato progettato per funzionare al meglio con diffusori dai 4 Ohm agli 8 Ohm e alla fine è capibile visto che i diffusori da 2 Ohm in ambito Wi-Fi ce ne sono veramente pochissimi. In questo grafico invece andiamo a vedere la differenza di risposta che c'è fra i due amplificatori, in particolare è mostrata solo la risposta in frequenza sul carico da 4 Ohm. Prestiamo attenzione che la scala in dB è stata aumentata rispetto al grafico precedente e possiamo notare che la risposta è la medesima, abbiamo solo uno scalto di meno di 0,2 dB fra un amplificatore e l'altro. Andiamo ora a vedere la potenza che può erogare ciascuno di questi amplificatori, i dati di potenza che vedete in questo grafico sono riferiti a un singolo amplificatore. Con l'alimentatore originale da 36V 6A possiamo ottenere 75W su 8 Ohm, 140W su 4 Ohm e ben 210W su 2 Ohm. Se proprio abbiamo bisogno di più potenza possiamo anche andare a utilizzare un alimentatore più performante, anzi due alimentatori più performanti visto che ne serve uno per ogni amplificatore. Nella parte bassa del grafico vediamo infatti che con un alimentatore da 48V 10A andiamo a raggiungere i limiti dell'amplificatore in classe D che riesce ad erogare al massimo 130W su 8 Ohm, 250W su 4 Ohm e ben 450W su 2 Ohm. Ora secondo me andare ad utilizzare due alimentatori da 10A quando magari già sappiamo che non andremo mai ad utilizzare diffusori da 2 Ohm per me è abbastanza inutile. Quindi se già sappiamo che non utilizzeremo mai diffusori da 2 Ohm possiamo accontentarci di due alimentatori da 48V 5A. In questo caso la potenza erogata degli amplificatori rimane la medesima per 8 Ohm e 4 Ohm e quella da 2 Ohm viene ridotta a 250W al posto che è 450W. Veniamo ora alle note d'uso e d'ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso l'amplificatore è molto semplice non ha delle particolari funzioni. Io li ho utilizzati solo come finali di potenza praticamente quindi avevo un amplificatore con cui regolavo il volume e selezionavo gli ingressi e ho utilizzato i due AIMA 3000A1 configurati in PBTL con il volume al massimo come finali di potenza. Li ho utilizzati in configurazione di biamplificazione con dei diffusori della TDL, le TDL e RTL3 che sono i diffusori che utilizzo per testare gli amplificatori. Il suono che ne è scatuito è stato molto piacevole, molto corretto, definito, veramente un bel suono. È molto simile al suono degli amplificatori della IMA che montano il TPA3255, per esempio la IMA A07 Pro che avevo già provato in un altro video. Se siete interessati potete cliccare il banner in alto a destra per andare direttamente alla recensione di questo amplificatore. Tornando al suono, un suono molto piacevole, bassi belli corposi presenti e anche le frequenze medie e alte sono rese in un ottimo modo. Veniamo ora ai voti finali che diversamente dal video precedente prendono in considerazione l'utilizzo in configurazione di biamplificazione. Per quanto riguarda la potenza ho dato un 9, per la risposta in frequenza ho dato un 7,5 se teniamo conto anche della risposta su 2 ohm. Se invece teniamo conto solo della risposta su 4 ohm e 8 ohm il voto sale 8,5. Per il suono ho sempre 8,5. Per il design un 7. Per la versatilità ho dato solo un 7 visto che abbiamo solo un ingresso analogico, non abbiamo ingressi digitali e non abbiamo neanche il bluetooth. E infine per il rapporto qualità prezzo ho dato un 9. A proposito di prezzo, la IMAT-3001, quindi un singolo amplificatore, si trova su Amazon a 89€, ma oggi che sto registrando questo video è disponibile un coupon di sconto del 15%, basta infatti cliccare nella spunta in basso e verrà applicato direttamente nel momento dell'acquisto. In questo caso il prezzo scende a 76€. Vi ricordo ovviamente che per la biamplificazione è necessario comprarne due, quindi il prezzo totale per la coppia di amplificatori è di 152€. Ma sfido chiunque a trovarmi una configurazione in biamplificazione a questo prezzo e che vada così bene. Comunque vi consiglio di fare un salto nella descrizione del video dove trovate il link Amazon al prodotto. Infatti i prezzi variano giornalmente, quindi potrebbe non esserci più lo sconto oppure potrebbe esserci uno sconto ulteriore. Quindi vi consiglio di controllare tramite il link in descrizione. Vi ricordo inoltre che è un link affiliato con Amazon, quindi se voi acquistate qualsiasi prodotto passando da questo link, Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale mentre a voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, spero vi sia piaciuto. In caso affermativo vi ricordo di lasciare un like che è sempre gradito e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i prossimi video. Grazie e al prossimo video.